Questo progetto è nato da parte dell'Opera di Roma per creare un'orchestra giovanile e questo invito da parte del sovrintendente Fuortes e della direttrice del Dipartimento dell'Educazione Nunzia Nigro è stato per me un onore perché avere a che fare con i giovani è un'occasione di gioia in quanto ho ricevuto moltissimo dai miei insegnanti e sento il dovere di tramandare questo spirito e questo impegno puoi stare con i giovani è galvanizzante, è un momento di... si ringiovanisce e io mi imbedesimo nel loro spirito veramente è un momento di assoluta giovinezza che torna e questo io sono molto grato per questo invito e questo è un momento di assoluto